Ho scritto una lettera per Beatrice, mi dici che ne pensi? Nella vita nuova Dante celebra l'amore per Beatrice. All'inizio vuole conoscerla, cerca di avvicinarla, solo che è timido, si vergogna. Oh, bello! Tu che cazzo sei? È la forza stessa del suo amore che lo paralizza. Lei non stava uscendo? No, torno. Questa è una classe, non è il cesso di casa sua che prege quando vuole. Se fossi la reincarnazione di Dante? E se ti fossi solo rincoglionito? Cara Beatrice. Non so cosa si debba dire in questi casi. Se devo fare finta che stai bene, sto cercando una ragazza. Allora sarà lei. Che non sto soffrendo per te. Cosa c'è che non fa? Dai, parlami! Che tu non mi piaci. Io ogni volta che ti vedo mi viene un'emozione dentro, ho il cuore a mille. Che tu stia bene, non stia soffrendo, eccetera. Una fortuna averti come amica. Nella vita le bastonate arrivano per tutti, però tu le puoi affrontare. E la forza ce l'hai. Ciao. Volevo fare tante cose. Suonare la chitarra. Viaggiare. Ridere. Leo, quella è passione. L'amore è un'altra cosa. Cosa pretendi? Guarda che sono umana anch'io, cazzo, eh! Ti immagini se con un salto si potesse, si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire.